Da otto serate, per otto concerti intimi, Riccardo Cocciante torna ad abbracciare il pubblico italiano live dal vivo. Lo ha intervistato Leonardo Metalli. Poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi l'incontro è per caso, tra le braccia di un bimbo. Perché? Riccardo, questo è solo un piccolo anticipo di questo grande tour in anteprima, che sarà un po' Cocciante allo specchio, che si racconta con una band e un'orchestra di 40 elementi. Certo, io non direi un giro, diciamo otto serate, sono volutamente così, è come un tuffo nel ritornare nell'intimo. Adesso facciamo questi concerti immensi, però è come l'attore che fa il cinema e poi vuole fare il teatro. A me piace tutta la musica, tutta. Sono aperto a qualsiasi tipo di musica. Come saluteresti il tuo pubblico, i tuoi amici che verranno a vedere questo concerto speciale? Con una canzone? Sì, direi ciao, ciao. Però anche così. Se stiamo insieme ci sarà un perché E vorrei riscoprirlo stasera Mi manchi sai Mi manchi sai Mi manchi sai